Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi sono messo alla ricerca e ho trovato 5 video terrificanti nel web, quindi mettetevi comodi, spegnete la luce della vostra stanza e immergetevi in questi video davvero inquietanti. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube, a lasciare un mi piace al video e di attivare la campanella delle notifiche, in modo tale da non perdervi i prossimi video. Una domenica sera Mitch Kuhn e i suoi genitori stavano guidando lungo un'autostrada trafficata vicino a Sydney, in Australia, quando dal nulla arriva all'improvviso un incontro particolarmente strano. Mitch ha catturato il momento con la sua telecamera posizionata sul cruscotto. Mitch spiega di essere rimasto scioccato quando è apparso il bambino dal nulla di fronte a lui sull'autostrada. Dice inoltre che il bambino non sembrava avere più di 6 anni e indossava un capotto blu. La madre di Mitch chiama immediatamente la polizia per avvertirli del bambino smarrito che camminava sull'autostrada, ma dopo 45 minuti senza aver sentito nulla, Mitch chiama nuovamente la polizia per offrire loro il filmato della sua dashcam, ma l'ufficiale a telefono lo informa dicendogli che il bambino è stato trovato e che il filmato non era necessario. Ed è qui che le cose iniziano a farsi davvero strane. Infatti, dopo essere stato rassicurato dalla polizia, Mitch crede che il bambino sia al sicuro. Lui decide di pubblicare il filmato su Facebook e il video viene ripreso dai giornalisti australiani e si rivolgono alla polizia per ottenere maggiori informazioni sull'accaduto, ma la polizia nega di aver trovato il bambino. Affermano di aver perquisito tutta la zona, ma non è stato trovato alcun bambino e non c'è stata alcuna segnalazione di scomparsa in quella zona. Quindi potrebbe essere che Mitch ha ripreso qualcosa di paranormale con la sua telecamera? Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Il prossimo video è un po' mistero, perché la fonte è stata ampiamente dibattuta su internet. Nel video si vede un uomo mentre mostra la sua tenda da campeggio situata nei boschi di Oregon, quando più tardi, nella notte, le cose si fanno particolarmente terrificanti. Alcuni credono che questo filmato sia stato registrato da Jacob Edress. Jacob era scomparso nel 2017 ed è stato visto l'ultima volta proprio a Oregon, dopo aver chiamato il suo capo per essere stato inseguito da qualcuno. Altri invece credono che il filmato sarebbe stato girato da Chase Hove, un giovane ragazzo scomparso anche lui nel 2017. Chase è scomparso nella stessa identica area in cui è stato registrato questo video, ma queste sono solo alcune teorie. Ora però ecco il video ghiacciante. All right, well, it may seem like a bit much, but here I am solo camping. This is Deschutes, Oregon. Well, close to Bend, Oregon. I brought the eight-person tent, or the six-person tent. I haven't pulled this thing out in a long time, so I thought first of the season I should pull that out, give it a go. It's about that time. Sun is setting. I think it's about eight o'clock. It should be dark out here in less than an hour. We can get a little bit over there through the trees. Beautiful night. Definitely going to be turning in early, though. Yeah, you can hear something from that side. Sun is right outside the tent. There's someone right outside the tent. That can't be... That gets us... Someone's messing around with the rocks out there. Jesus Christ. Leave me alone! There's one out there. A flashlight. Now I can't see a gun. I can't see a godd*** thing outside this night vision. Jesus Christ. I don't know where the f*** are. I'll f***er chase me off. I'm wandering the godd*** darkness. F***er flashlight. Who did this? Jesus Christ. If you're in there, if you can't see you in the garden, it's always out. If you cannot see you in the garden... You know I am looking for a big time. You can see I'm looking for you. This one who comes across you in a garden. You've got a big view and I'm looking for your feet. You are looking for a big thing. You've got caught up in a garden. Any way. Ed è qui che il filmato si interrompe bruscamente e il mistero si intensifica. Ora alcuni affermano che la videocamera sia stata ritrovata nel campeggio assieme alla sua macchina, la sua tenda e altri oggetti di valore. Ma si dice che il misterioso uomo che ha registrato tutto questo sia scomparso. Quindi se questo filmato sia stato registrato da Jacob o da Chase, questo non lo possiamo sapere. Ma potrebbe anche essere che il video sia stato ben elaborato da far sembrare vero. Che sia reale o no, lascio a voi la decisione. L'utente TikTok DarkSecret37 è una madre originaria delle Filippine che attualmente vive in Giappone con i suoi due figli. Una sera di primavera, quando gli alberi di Sakura sono in piena fioritura, i due ragazzi fanno un video con uno dei loro amici. Ma quello che succede dopo è davvero bizzarro. Una mano avvolge una delle gambe del ragazzo. E colui che sta registrando, rimanendo scioccato, si precipita per vedere l'aria intorno ai due ragazzi. Ma lì non c'è niente e nessuno. Alcuni commentatori di TikTok giapponesi credono che molto tempo fa sia stato sepolto qualcuno nell'esatto punto in cui si trova ora l'albero di Sakura. E che il suo spirito, irrequieto, abbia cercato di prendere i due ragazzi. Ma voi cosa pensate che potrebbe essere questa mano inquietante? Un altro utente TikTok di nome Rachel Howard di Phoenix in Arizona ha girato un piccolo video veloce per mostrare la sua nuova televisione. Ma più tardi si rende conto di aver catturato qualcosa di inquietante. Una figura umanoide completamente nera sembra essere in piedi sopra Rachel, nel riflesso dello schermo della TV. Quando si avvicina, qualunque cosa fosse, sembra sfrecciare via velocemente per poi sparire nel nulla. Secondo voi Rachel ha catturato qualcosa di paranormale per puro caso? Oppure è solamente qualcuno che si è travestito completamente di nero? Il video che vedrete ora proviene dal Giappone e tuttora non si sa chi lo abbia registrato. Ma nel filmato vediamo un ragazzo che esplora un edificio abbandonato da qualche parte e si rende subito conto di aver commesso un grosso errore, poiché incontrerà qualcosa di veramente terribile. Grazie a tutti. Il giovane esploratore rimane bloccato dalla paura quando vede quella che sembra essere una donna che uscirà in modo strano avanti e indietro. Il ragazzo sbircia continuamente oltre la porta per riprendere la donna, quando lei appare improvvisamente molto più vicina, mentre inizia anche ad avvicinarsi verso il ragazzo. Comprensibilmente quest'ultimo inizia a correre velocemente per salvarsi la vita. All'inizio, chiunque sia questa donna sembra essere una persona reale molto strana, ma quando diamo un'occhiata più da vicino al filmato possiamo vedere la donna che appare proprio da un muro. Quindi, secondo voi, questa donna è vera o si tratta di un fantasma che infesta quell'edificio abbandonato? E per finire ho deciso di inserire in questo video anche un altro filmato proveniente sempre dal Giappone, ma questa clip è probabilmente una delle più inquietanti che abbiate mai visto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Etc'è non importa. Non ho. E supposed jukurà? Il proprio a toi che utilizzate? Non c'èツaltate, non c'è AC rebate. Non c'è io, erè che a me più Complesso di venire exceedını Per il loro che non mi sentono, è vero. Non, non mi sento, non mi sento. Ti ho capito molto, non mi sento. Non mi sento. Non mi sento. Non mi sento. Non, non mi sento. E. 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 Ahah! Ahah! Oh come... Ehi! Ahah! Ahah! Ah ahah! 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 Grazie.